Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Leo Gullotta, che ci ha sempre portato il sorriso nelle nostre case, nonostante non sia più un giovincello. A 76 anni non ha assolutamente voglia di dire addio alla sua più grande passione, quella per lo spettacolo che ha coltivato sin da bambino. Ci ha sempre fatto ridere con i suoi sketch, con i suoi siparietti comici, eppure ci sono cose che nessuno sa di lui, che si porta dietro una tragedia immensa. Non esiste solo la vita professionale, ma anche quello sentimentale. Leo Gullotta ha deciso di parlarne apertamente. L'attore ha dichiara la sua omosessualità nel lontano 1995, semplicemente rispondendo alla domanda di una giornalista. Furono queste le sue parole, quando me lo hanno chiesto? Io ho risposto sì, perché? Mi dica? Ancora una volta, con estrema profondità, velata dietro l'ironia, l'artista è stato capace di sviscerare tematiche considerate tabù, e siamo alle soglie del 2023, per poi lasciarsi andare ad un dolore fortissimo, una ferita sempre aperta, impossibile da sanare, che condivide con tutta la sua famiglia. Una delle mie sorelle, però, ci ha lasciato purtroppo troppo presto per un'embolia. Ecco cosa di nasconde dietro il sorriso che un comico del suo spessore porta in scena.